Questa mattina lungo l'autostrada 6 Torino-Savona, un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro. L'uomo è caduto da un ponteggio allestito su un viadotto nei pressi della Galleria Nigio, al chilometro 114 più 400 tra Altare e l'uscita di Savona. La tragedia è avvenuta intorno alle 9.50 e ha portato alla chiusura del tratto autostradale in direzione sud. I colleghi testimoni dell'incidente hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco, ma a causa delle gravi lesioni tentativi di rianimazione sono stati vani. Era stato richiesto anche l'elisoccorso, ma l'operaio è stato dichiarato morto prima del suo arrivo. Le forze dell'ordine stanno conducendo i rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ipotesi, il ponteggio avrebbe ceduto, causando la caduta dell'uomo da un'altezza di circa 15 metri.